Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Odette, l'organizzatrice di questa bellissima serata in collaborazione con Caldieri Auto. Come sta andando Odette? Abbastanza bene, non ci possiamo lamentare, è una bella fluenza, è un bel momento latino, sempre in compagnia della Caldieri Auto che è stato uno sponsor d'eccezione. Ti faccio giusto qualche piccola domanda per vedere come conosci Fiat? Abbastanza sì. So che tu oggi hai guidato la 500L Living. Living è stupenda ragazzi, è un'esperienza da fare, guarda. E un'altra domanda, tra una 500L che è più inutilitaria, una trekking che è più una 4x4 e una Living? La Living, la Living perché ho visto che è una macchina escezionale, sembra un sub dentro, è molto spaziosa, si porta benissimo, quindi la consiglio. Quindi sei più, diciamo, una personalità familiare, più propensa alla famiglia. Sì, 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 sì. È la seconda persona della serata che incontriamo che ha questa personalità molto più legata alla famiglia e quindi la scelta è inevitabile legata su 500L. Grazie Odette. Prego, grazie a voi. Ciao.